Sei stato, beh penso senza offendere nessuno, fosse il primo a credere nel fenomeno degli youtuber, che adesso so che mi contraddirai perché poi si chiamano creator ma c'è anche una distinzione che nasconde anche un concetto che è molto differente. Oggi sei una realtà affermata, hai creato anche un'academy e nonostante il fenomeno non sia più così nuovo, cioè dici che l'evoluzione parla sempre più insomma di un meccanismo che si diffonde e cresce e si approfondisce. Allora all'inizio sì, siamo stati i primi a creare una professione intorno a questo momento ludico perché nessuno di loro capiva che c'era la possibilità di farlo diventare un lavoro, cioè ognuno di loro andava a scuola, faceva una vita normale, quando aveva tempo faceva un video su youtube. E noi abbiamo spiegato loro che questo era la nuova forma, loro erano la nuova genesi creativa, la nuova generazione di artisti, erano la nuova, come dire, vetrina di comunicazione che si sarebbe potuta dare un brand. Non si rendevano conto di niente di tutto questo. Quando parlai con i primi, con Favij, che era piccolino, aveva neanche 18 anni, mi diceva ma se solo il 10% di quello che mi dici sarà vero sarebbe formidabile. E gli ho detto voi prima di tutto dovete diventare delle star, ma non come atteggiamento, dovete diventare delle star nel senso del mainstream. Cioè non solo chi guarda youtube deve sapere chi siete, ma lo devono sapere i media, lo deve sapere chiunque. E da lì ci siamo chiamati web star channel, quindi abbiamo cercato per un anno e mezzo di non mettere la testa verso il mercato, ma di mettere solo il cervello connesso al mercato. Quindi di creare loro un'attitudine artistica e professionale per far sì che potessero essere pronti quando arrivava il loro momento. Quindi farli capire che la prima cosa era la costanza, la prima cosa era avere un palinsesto, avere un piano creativo chiaro, saper addempiere a delle responsabilità. Quindi quando lavori con un'azienda o con chiunque, se devi consegnare un progetto, un lavoro entro quella data, entro quella data lo devi fare. E loro andavano a scuola, quindi per loro era ramaico, non capivano di cosa stessi parlando. Dopo un anno e mezzo che abbiamo tarato perfettamente la macchina, quindi avevamo scelto dieci creator molto diversi l'uno dall'altro, quindi un gamer, una persona più nel do it yourself, più nel glamour, insomma un po' presidiando tutte le fasce di mercato, da lì abbiamo raccontato lo IAB che esisteva web star channel e che cos'era web star channel. Ovviamente quando un qualcosa comincia a funzionare tanto si crea un'industria, quindi oggi ci sono molti altri player che fanno un lavoro simile al nostro e questo è bene per il mercato, vuol dire che tutti i giorni molti parlano della stessa cosa, quindi crei ovviamente un mercato. Oggi, per far sì che questo sia in continua espansione, perché è solo da due o tre anni che il mercato ne è realmente consapevole, noi siamo stati non solo i primi a dare una professione a quel mondo, ma i primi a cominciare a creare una conversione al consumo, perché loro all'inizio sembravano delle grandi calamite di fruizione gratuita di un contenuto, ma poi bisognava vedere se questo ovviamente poteva essere utile al mercato. La prima attività è stata un libro ed è entrato in classifica dopo pochissimi giorni, primo in classifica, è stato un album di figurine, abbiamo venduto un milione e mezzo in quattro settimane, abbiamo creato licensing, quindi far sì che loro da creator sono diventati un brand e da brand sono diventati un prodotto. Quindi, ma a te, Favij, la cartotecnica, cioè tu pensi che un tuo fan andrebbe mai a scuola con un tuo zaino, un tuo diario, un tuo astuccio, e siamo andati da giochi preziosi, abbiamo fatto il primo licensing, oggi lo facciamo nella cartotecnica, l'uovo di Pasqua, nel mondo dell'abbigliamento, accessorici, lo decliniamo in tanti mondi. Abbiamo fatto il primo film fatto con soli creator in Italia, una cosa terribile di cui mi vergogno tanto, ma è stata la mia miglior palestra perché mi ha insegnato un po' tutto. Abbiamo prodotto il primo programma con soli creator per Sky, oggi ne produciamo diversi, insomma abbiamo cercato di sperimentare tante linee di business, cercando di non fregare mai l'utente, ma di dargli un valore aggiunto. Anche l'academy, no? E oggi per la crescita di tutto questo ovviamente serve la qualità, quindi abbiamo aperto un'altra società che si chiama Grow Up Network, è un multi channel network, ma un po' tipico, quindi sicuramente abbiamo un team super specializzato nel sapere interpretare il dato sul social, quando postare, guardare la curva, quando cala, analizzare perfettamente i dati che ci mettono a disposizione, ma soprattutto insegnare a questi ragazzi a usare lo strumento. Purtroppo, non purtroppo, chi cresce guardando YouTube si ispira rispetto a ciò che vede, però in Italia siamo molto basici, bassi, siamo creativamente molto mosci, se tu guardi YouTube all'estero è molto più spettacolare ciò che vedi, addirittura dei grandissimi creator non hanno neanche bisogno di dialogare, il linguaggio è l'immagine che vedi, quindi diventa worldwide l'audience, perché purtroppo... Qual è la tendenza nel contenuto? Allora, in Italia la tendenza nel contenuto, guardano le tendenze che è una classifica di YouTube e cercano di... fanno le parodie musicali, il prank che sarebbe l'esperimento sociale, la candid camera, fanno tutti la stessa cosa, nessuno inventa un genere, nessuno inventa una declinazione del genere, ma tutti copiano e quindi è questo che oggi in Italia non abbiamo e da lì nasce Grow Up, quindi Grow Up è una società che ti insegna a usare lo strumento, vuol dire non ti insegno a montare, ti insegno a migliorare il tuo montaggio, ti insegniamo a scrivere, quindi a prevedere ciò che succederà nel tuo video, a usare la camera, a usare le luci, cioè a dare al tuo pubblico un filone narrativo molto chiaro, perché tu magari hai una grande idea, un creator deve essere un creativo, quindi YouTuber o creator? YouTuber è specifico sulla piattaforma di YouTube, un creator è una nuova generazione di creativo che sa realizzare il contenuto, lo sa montare, lo sa comunicare, ha tutta la filiera tra le sue mani, quindi ha un potere enorme. Chiaramente loro sono autodidatti, non sanno realmente cos'è la produzione, cos'è la creatività, hanno degli impulsi, che è la cosa meravigliosa, quindi quando lavori con loro non li snaturi mai, li metti al centro e cerchi di migliorare ciò che pensano. Quindi l'academy di Grow Up nasce con uno spazio fisico, quindi 5-600 metri quadri di spazio dove possono dilettarsi nel fare teoria, quindi imparare a usare lo strumento e fare pratica, vuol dire con una serie di set che abbiamo, poi scaricare a terra e provare. Che numeri deve avere un creator o un YouTuber per essere interessante per i brand? Ti do due risposte, per essere interessante per noi, Webstar Channel gestisce solo 6 creator oggi, 6 identità digitale, quindi Favij, Meiz, Giulia Penna, la Sabri, quindi persone che rappresentano un mondo molto chiaro, Grow Up ha 170 canali, quindi le nuove leve del futuro. In quel caso non guardiamo i numeri, guardiamo molto la verticalità, che qualcuno di loro rappresenti un argomento in maniera verticale lo sappia presidiare nel modo giusto e se avrà talento, come Favij e gli altri li abbiamo presi all'inizio, seguendoli, stimolandoli, svilupperanno e diventeranno i prossimi grandi nomi del nostro paese. Un'azienda guarda solo i numeri, giustamente, perché come quando pianifica in televisione o su qualsiasi altro media, ci vuole un numero finale, deve sapere a che audience si va a rapportare. Il numero di iscritti è abbastanza relativo, perché tu puoi avere fidelizzato un grande pubblico, ma aver perso la costanza da tempo e quindi magari a volte fai un quinto di views rispetto al tuo numero di iscritti. Un'azienda non guarda mai il singolo creator, è difficile che un'azienda, non si vendono testimonial, ma si vende un linguaggio e un audience e loro ti aprono le porte a quell'audience con la loro organizzazione. In Italia, in comunicazione, perché questi creator diventano media nei media, il coraggio è un po' la nostra nota d'Olenz, per cui quanto è difficile poi riuscire a far capire alle aziende che si devono un po' affidare, perché altrimenti snaturano un canale, insomma anche perché il creator, la sua forza sono i fan, se si sputtano, è un termine molto basico, cioè perdono la loro capacità di avere audience. Il loro patrimonio sono i loro fan, assolutamente, e quindi la prima cosa è essere estremamente fedeli ai fan e non snaturarsi e non vendersi per un brand. Il brand deve essere un'opportunità che si vuole calare in quello che è il linguaggio del creator, perché sa che gli apre le porte a quell'audience lì, quindi facciamo molta fatica, ma non soffriamo del fatto che un cliente non abbia il coraggio di osare, perché se non osi non sei pop, cioè per essere pop devi stupire chi guarda. Magari qualcuno non ti segue, ma fai un qualcosa che è talmente creativo, talmente wow, che avrai molto pubblico su quel contenuto stesso e per farlo devi osare, devi avere una creatività molto disruptive. L'azienda che è abituata a comprare ATL, che è abituata a comprare un formato pubblicitario normale, rimane in un perimetro circoscritto molto piccolo, invece noi dobbiamo andare completamente oltre. Abbiamo cominciato a lavorare con delle grandissime aziende in Italia, quindi dei pionieri del business italiano, ognuno nella loro mercelogia, è stato complicato, però ci ha aperto molto le porte perché la redemption che ha dato quei contenuti, il fatto che un grande brand come Intesa, come Vodafone, come l'Italia, avesse avuto il coraggio, che poi per noi è la normalità per poter entrare in quel mondo, di voler comunicare con i creator e di aver avuto un successo tale grazie a quella campagna che ci ha aperto le porte con tutti gli altri. Quindi noi oggi chiediamo a un cliente che conosce a menadito il suo prodotto di raccontarci qual è il suo obiettivo e gli chiediamo di lasciarci l'altro 50% di regia, di interpretare, di tradurre quell'obiettivo nel nostro mondo e questo funziona molto bene. È chiaro che se vai da un cliente che ti dà un copione in mano, oggi tutte le aziende creative, le agenzie creative, quindi quelle estremamente conosciute, le multinazionali che sono anche in Italia, un tempo erano dei consulenti del mercato, oggi purtroppo sono degli schiavi dei clienti, perché oggi un cliente ti dice cosa devi fare, quando lo devi fare e come lo devi fare e dove chi ha il timone della creatività, il cliente ti deve raccontare la sua desiderata. Noi cerchiamo... Ma voi lavorate con cliente o anche con agenzie? In questo multichannel? Noi lavoriamo in modo intermediato e disintermediato, nel senso che preferiamo lavorare con chi capisce il nostro mondo, quindi a noi non disturba minimamente che ci sia un'agenzia, un centro media o un cliente diretto. L'importante è avere un interlocutore non coraggioso, perché è la normalità il fatto oggi di andare a comunicare in quel modo, ma una persona che capisca di che cosa stiamo parlando, quindi a prescindere da chi sia... Quanto vale il mercato oggi, il vostro mercato? Termini di investimenti, di comedia? Io ti risponderei prima dicendoti che se oggi i tre player principali come concessionarie raccolgono tre miliardi di pubblicità in un modo, come dire, un po' diverso, un po' attempato, un po' meno moderno rispetto a come lo facciamo noi, dobbiamo puntare a quel fatturato che ci divideremo con tutta la nostra industria, ma domani un'azienda non vorrà più fare un classico spot. Oggi valiamo peanuts rispetto a questi tre miliardi di investimento, però stiamo arrivando, c'è la nostra azienda, aumenta di fatturato del 100-200% ogni anno, vuol dire che sta crescendo quel mondo, quindi il nostro gruppo fatturerà quest'anno 18 milioni e comunque già un buon primo obiettivo, ma non è nulla rispetto a quello di cui parlavamo prima, però ci stiamo arrivando. Benchmark esteri, insomma, che paese possiamo guardare e a cosa per capire un po' cosa diventerà questo mondo? Beh, è sempre bene guardare una lingua universale, quindi guardare il mercato UK-US e guardare il mercato spagnolo, noi parliamo solo agli italiani, quindi siamo molto sfortunati e anche lì... Ogli youtuber direttamente all'estero non c'è chi esporta, youtuber italiani o creator italiani? Per il momento non è mai successo, anche perché se la tua fanbase è abituata a sentirti parlare in italiano e vuoi parlare a un'altra fanbase, devi intanto padroneggiare la lingua e devi partire da zero iscritti perché non hai nessuno di quel mercato che ti segue, questo potrebbe crescere e nascere con una collaborazione con un creator internazionale e da lì, come si faceva all'inizio, poi ti giochi la tua partita, per il momento nessuno l'ha ancora mai fatto, almeno partendo dall'Italia. E quindi dicevo, in termini di visione invece cosa diventa tutto questo mondo media nel media? Beh, te l'ho detto, diventa per noi oggi, noi siamo, il nostro core target è molto giovane, lo stiamo allargando sempre di più perché chiunque oggi è sui social, quindi la chiave è il modo in cui arrivi a loro. Quindi oggi penso che il mondo dei social e il linguaggio del mondo dei social diventerà il media più potente in assoluto. Poi una persona, mia mamma si sente confident a usare i social ma a guardare ancora la televisione, quindi la televisione ovviamente ha un suo mercato, lo avrà per sempre, però mi chiedo perché non guarda il futuro, perché il modo in cui guarda il futuro, loro vogliono fare digital con la testa della televisione, ma il digital è un altro mondo, un'altra grammatica, questo per noi è un vantaggio, quindi guardando in futuro penso che il mondo social, la grammatica pop sarà il media assoluto e tutti gli altri prenderanno spunto da lì, quindi si invertirà completamente la tendenza a livello globale.